Benvenuto o benvenuta ad una nuova lezione di MasterExcel.it Questo è il primo di tre video che ho dedicato al calcolo delle percentuali Oggi andremo a vedere come calcolare la percentuale di un dato valore Come calcolare la percentuale di completamento E come calcolare la percentuale nel caso di gruppi Nei prossimi vedremo l'IVA, che secondo me merita un discorso a parte E poi infine vedremo un caso pratico di analisi delle vendite Ma andiamo a vedere subito il primo esempio Ponendo che io voglia calcolare una data percentuale di un valore Quello che devo fare è semplicissimo Prima di tutto occorre inserire il valore della percentuale Per farlo basta scriverlo e scrivere anche il simbolo della percentuale E schiacciare invio Excel cambierà in automatico da generale a percentuale il formato della cella Se non lo fa lo puoi cambiare tu manualmente Sia dalla home, da questo tastino qui, sia dal menu Sia anche ovviamente con tasto destro, formato cella, percentuale Ok Quindi hai parecchi metodi per inserire una percentuale Adesso andiamo a vedere come calcolare il 12% di 12 Uguale Cella a 2 Moltiplicato Cella di 2 Invio Fatto Se dovessi far scorrere la formula così com'è Ovviamente va a scrivermi 0 Perché questi valori qui sono vuoti Qui come vedi fa scorrere i numeri Per bloccare la cella di 2 Torna dentro la formula Posizionati vicino a di 2 Qui al centro o di lato E schiaccia F4 Invio Compariranno questi simboletti del dollaro Che ti bloccheranno la cella Se vuoi vedere più o meno cifre decimali Puoi modificarlo da qui Se invece vuoi proprio arrotondare Perché questa è un'opzione di visualizzazione Devi usare la funzione arrotonda Che è piuttosto facile Ma adesso andiamo a vedere il prossimo esempio Vediamo come calcolare la percentuale di completamento Abbiamo due tipi di lauree Una da 180 crediti Che è la laurea triennale E una da 120 Che è la laurea magistrale Abbiamo due studenti Entrambi hanno conseguito 30 crediti Però ovviamente il primo ne ha fatto 30 su 180 E l'altro 30 su 120 Quindi mi aspetto già che la percentuale di completamento Sia maggiore nel secondo caso Per calcolarle è facilissimo Uguale a 2 Che contiene il valore dei crediti ottenuti Su i crediti totali B2 Invio Questo valore non è un valore in percentuale Ma a noi basta Cambiare il formato della cella in percentuale In questo caso aggiungerei anche qualche cifra decimale Doppio clic Ed ecco calcolata la percentuale di completamento Terzo esempio per questo video I gruppi Questi sono dati reali del mio canale Abbiamo dei gruppi divisi per fasce d'età E le relative visualizzazioni Se volessi sapere la percentuale Ecco come fare Prima di tutto mi occorre calcolare le visualizzazioni totali Posso farlo o in una cella o anche all'interno della formula Però facciamo qualcosa di facile Quindi calcoliamolo qui Posso anche utilizzare in vero il subtotale Ma facciamo semplicemente una somma Di questi valori Invio Adesso questo valore non è una percentuale Noi schiacciamo qui Diventa una percentuale Diamo due zeri in più magari Doppio clic Fatto Prima di concludere ti faccio vedere come lo scriverei io Questo lo sposto Senza cancellarlo Io scriverei una cosa di questo tipo Uguale B2.B diviso Somma di B2.B Invio Sì Percentuale Qualche zero in più Doppio clic Fatto Ovviamente usando questa formula Non posso inserire altri valori qui nella colonna B Quindi questo l'ho dovuto spostare Per quanto riguarda i valori delle percentuali All'interno dei grafici Vediamo l'esempio del grafico a torta Perché si presta molto bene per questa tipologia di dato Non occorre selezionare le percentuali Per averle dentro il nostro grafico a torta Basta semplicemente selezionare i dati Quindi i vari gruppi e i vari valori In questo caso di visualizzazioni Inserisci Puoi andare direttamente sul grafico a torta Oppure se vai su grafici consigliati Excel capisce in automatico Che un bel grafico a torta Ci sta bene Ok? Adesso puoi selezionare un modello Prefatto come questo Che ha già etichette dati Con le percentuali Altrimenti le puoi aggiungere tu manualmente Schiacciando su questo più Etichette dati Eccole qua aggiunte Il problema Fammi chiudere Ecco qua Il problema è che Queste sono valori Quindi doppio clic Mi apre questa finestra qui Clicco su Un'etichetta Me le seleziona tutte in automatico Vado qui su Opzioni Etichette Opzioni etichetta Opzioni etichetta Percentuale E tolgo valore Eccole qua Poi ovviamente Questo vale anche per Praticamente tutti i grafici Puoi spostarle Manualmente Per ingrandirle Basta Ecco Cliccare su una Le seleziona tutte Home E cambi La grandezza Ecco qua Avrai notato che Non compaiono Cifre decimali Per inserirle E facilissimo Sempre su Opzioni etichette Vai in Numero Qui giù in basso Gli dai Percentuale E da qui Puoi cambiare il numero Dei decimali Facilmente E' tutto per questo video Noi ci vediamo Nel prossimo Dove vediamo Come Addizionare L'IVA E scorporare L'IVA Il tutto In preparazione All'analisi Delle vendite Io ti aspetto Nel prossimo video Ciao